e salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio primo video è nuovo registrare di minecraft ma anche io sto registrando e infatti registramo insieme aiuto 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 ragazzi salutate i ragazzi aiutate i ragazzi allora ragazzi dice ciao ecco a casa mia e poi i ragazzi dice ciao e gengi non è finita qui la casa guarda non è finita è ok non ci dobbiamo diciamo la miniera comunque devo finire ancora le pareti di mettere in legno manco me lo ricordavo io prendo un po di legno no te lo giuro che Matteo si è messo a scavare un giorno ed ecco il risultato si è preso due stacca allora come vedete qui qui questa stacca la miniera non è vero ecco un po di bello ecco stacca di giottoli vai e poi per non farlo vedere a nessuno lo metterò sopra il letto cioè sotto il letto ragazzi avete visto che bello stile oddio no forse ho preso un po troppe cose alla creative io qui ho preso niente però questo non l'ho preso alla creative undici diamanti due smeraldi e venti di oro ok allora e almeno due stacca di ferro questo qua perchè sta a cuocere guarda perchè l'avevo preso oh creeper allora già che ci siamo facciamoci qualche blocchettino giulio ho troppo la voglia allora è un'armatura è un'armatura ci stavrebbe un creeper sopra una casa allora tutti e due allora allora ok ho creato questo metodo allora perchè così mi serverebbe noto questa sarebbe la camera di depressura di depressur comunque la camera di de come si dice depressione depressurizzazione tipo quando tu esci quando tu devi andare nello spazio mi posso già fare che prima però non voglio non voglio mi farò prove buone e utile allora dobbiamo andare lo so ho messo una porta così a caso però è per blindare un po' di più eh sono nella crafting materiali a posto oltre a passare le porte a posto guarda sto dentro una porta Gengi lo conosci il glitch di entrare nelle porte? si lo conosco benissimo e neanche le vedi più no no bottoni stavo creando bottoni ho tolto no no e ritorna ora divento io una porta guarda Gengi sono una porta Gengi sono diventato una porta cosa mi consigli di fare Giudi di Fevo? Zappa o Palla? Palla pala pala perché chi ha pala Zappa? ragazzi andiamo sull'altro mondo allora ragazzi ok siamo entrato nel mondo ho fatto un bel un breve taglietto e mi sono pure tagliato i capelli sto scherzando patate cotte eccole qua patate a volontà sono la vita e le patate cotte sono la vita e ti distruggono il petto ok allora ragazzi ecco il mondo che sto facendo 5 minuti fa quindi questa è la mia vanilla ma adesso andiamo in un altro mondo ci sto facendo anche un bel taglietto siiii che lo farò già in me ragazzi lo sapevamo nei tagli quando tipo tagliamo facciamo sempre così perché per aspettare cosa dovremmo fare? cioè scusate però ok che vabbè cos'è? cos'è? cos'è scusa? cos'è stato? eh niente sono i nuovi aggiornamenti e lo so però tutto all'improvviso così lo so sono i nuovi aggiornamenti lo so lo so lo so lo so ok adesso chi è che lo conosce il trucco e la torcia? sotto la gravel ok adesso siamo in una lucky wish da solo perchè non ho amici aiuto aiuto allora ragazzi qua ci sarà una miniera anche se sto in un cannon gigante faccio una miniera in una miniera una stack bella precisa prendiamo la roba che c'è perchè c'è l'equipaggiamento di nuovo e la lucky suona che non serve assolutamente a nulla preciso aaaaaaah aaaaaaah quanto spazio c'è? un po' di bobbettina un po' di bobbettina un po' di bobbettina no no mi risorgo il cibo e allora devo andare fuori a prendere un altro un po' di bobbettina sono uscito del mondo quindi questa è la minecraft vanilla eeeh però io non e allora ci vediamo domani con o dopo non lo so non so quando vi giusto che vi giusto a caso con un nuovo video ciao e io non concludo però un attimo un attimo allora scheletro ok ehm e così la vita 3 di 3 io ma che mira c'ho pure con il bra oh ma quanta vita c'hai? c'ho uno scheletro cioè mi stava per uccidere io uno scheletro l'ho shottato forse perché ha preso un po' di sole però l'ho shottato ma infatti si è un po' riscaldato fa da tipo di legno si di legno ma ragazzi è venuta l'ora di fare gli stack ed è venuta l'ora che io edit il video è un edit segreto è un edit segreto si non si potrebbe vedere in alto a destra dal video proprio no perché io non mi faccio vedere i miei editing i miei metodi di editing ovviamente alla fine devo mettere beh ragazzi pure io potrei concluderti la solita baccianatezza che ci ho messo dov'è quella baccianatezza? perché la chiami così? è una baccianatezza allora ma dove? 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 Genji basta solo che lo metti anche su un coso giallo Ragazzi allora scrivetemi se volete che riporto fallout con la serie Allora 29 Genji guarda cosa c'è qua Guarda cosa c'è qua No lo fate non ti permette per giudicare Ok e allora ragazzi e per questo video No 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 faccio una clip una clip una clip Ragazzi ok eccomi tornato qua dopo un lungo taglio di qualche di due tre giorni Molto lungo questo taglio Ho solo migliorato un po' il mio inventario Cioè solo di un po' Beh però da questo canyon ci ho trovato un bel po' Quindi No Non me la sento Forse tu devi continuare questa serie insieme Se riuscissi ad entrare Ragazzi mi sa che questo episodio si chiamerà proprio la febbre del Che non possiamo La febbre del loro Vabbè è uno C'è venuta la febbre quindi ogni Stavo scherzando Non so neanche cos'è Però Spero sia un periodo Scusate se sbaglio Forse mi bombarderete nei commenti Bellissimo Anche se ho piazzato un blocco male Bellissimo Ioni Carbone Cioè io ho la redstone Ma non il carbone Ok si è trovato Come l'ho detto Dove andare a prendere E non farò niente Off camera A parte quello lì che ho appena fatto Appena Se possiamo definirlo appena Quello lì che ho fatto In passato Breh Ok Sono riuscito a prendere il carbone E facciamoci qualche torcino Ok 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 Abbiamo preso Quei lapis di lato lì laggiù Sono buoni Però mi Mi puzzano tanto Perché stanno dietro la lava E Non puzzeranno più Cioè stanno dietro la lava Non vuoi che puzzano Un attimo Ok Ecco perché non mi sono messo Lo so Che c'erano altri pezzi Solo che non li ho voluti prima Torce Torce all'infinito Vieni all'infinito Torce 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 La febbre delle torce Ma Non villager Villager Co Sì L'avevi incontrati Oh Villager Devevi prendere i guinzaghi Non lo so Ok Ok Vado Vado Guardate questa parte Bambini Stupidi 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 Ma Ok Ragazzi Chi segue Grax Andatelo a seguire Chi comincerà Questa battaglia Mi ammette il bianco La battaglia evica E vieni Mi so salvato Mamma mia Mi spiace Lama Cioè ma faccio meno danno di un lama Due guinzaghi Questo è perfetto Ok Io mi tengo le torce in mano Anche se non fanno luce Lo so che c'era il carbone Però No Non lo ignoro Perché Perché ci faceva della redstone Guarda Nel carbone ho trovato Hai trovato il diamante Il carbone No Ragazzi Vi immaginate Trovo così A caso il diamante In mezzo al carbone Io non la puoi trovare In effetti In effetti In effetti Non la puoi scavare Cosa c'ho? Trovo Il pennello Non lo posso mai scavare Hai ragione L'ossidiana Non la potrò mai scavare Sono stupido Ma sono allo stesso tempo fortunatissimo Gli slime servono per fare guinzaghi Cioè ragazzi lo sapete quanto è raro trovare uno slime? Faccio una diga Di notte Se dovrebbero trovare Ai villaggi Una marea Una marea di slime Di notte Villaggi In effetti Bene In effetti Mi servirebbe Per fare un'alternismo Oh sì Wow La febbre è loro vera No Oh no Venite Come on Kill mia B Dai No Diventa una marea Ecco perché No ma non Di metter Vabbè Alcuni sui strani Quanti slime Sei slime ball Ma sai Tu puoi fare Tu stai No No Aspetta Non puoi la redstone Che puoi vedere Con la redstone Ah Pal buco Pal buco Per fare una sola diga Ho sprecato La metà dei miei blocchi Una sola Sono fierissima Di quello che fa Hai una capa Sì Perché io la faccio Solo Ma sono pure Molto efficienti Ma per prendere legno Fai per abbellire Non è Molto facile Eh però Se Se fai del lavoro Sodo Vabbè Lo faccio Io sempre Ragazzi Allora Se volete Potete mandarmi Tipo Un video Con il vostro link Nei commenti Così posso vedere Le vostre case Su minecraft E vediamo Quanto saranno belle Eh no Non è che vediamo Quanto saranno belle Matti Non è che vedremo Quanto saranno belle Le vedete Non è che Vedremo Quanto saranno belle Poi vi faremo Vedere dalla play La più bella Non Poi Ah Io ce l'ho trovato il diamantolo La giulicraft Solo che devo rimanere la giulicraft Quindi non esiste più Mi dispiace Ma una Quella Un po' barata Quella Si ma pure era un po' bruttina la casa Insomma Molto difesa Non proprio La giulicraft C'era davanti agli occhi Fa luce Che ti fa male Cosa? E' difesa da Quella specie di In più Come mezzi di trasporto E io lo conosco E ragazzi Era l'unico modo per risalire Io non morivo qua Però io lo vorrei vedere un attimo Se ci sono diamanti Ok no vedate Vai Vai giù Sì Ok E no se ci sono diamanti Impossible Giù dove c'è la lava Cioè dai Minecraft non te le vuole mai cacciare Non lo puoi prendere Ok Matti Se vuoi ti faccio vedere Quello che ho costruito L'ho vista tanto È una villa Non proprio È una villa Ah no Ma me l'hai già Che mi fa soffrire Che mi fa soffrire Un po' di caustrofobia Però vabbè Almeno è un vault È protetto Un vault Se si può chiamare Un vault Scusate Ma era per dire Tipo un vault Genji Se stai guardando Sto video Non ti mostrerò Un passaggio segreto Aiuto Vediamo come si fanno i pistoni Eh i pistoni Non è difficile Il faro ce l'hai Claro che ce l'ho Poi la legna ce l'hai Ah che paura Mi fa Ma mi fa prendere Sempre uno spavento Sto 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 Ragazzi Chi soffre Di Caustrofobia Non so se lo dico bene Non guardate Questo video Eppure Quelli di fallout Ma se state Per andare a dormire Mai E manco Quelli Minecraft Meglio Brolin L'intro Lo so Di Brawl Stars L'intro Che ho messo Così Così non mi fai spaventi Fornace E bastava solo che andavo a letto Un concomero C'è un coscione Non lo vado a killare Perché se Robby guarda questo video non lo andrò a killare Robby se guardi sto video non lo andrò al maiale Lo vedi Due Carino No No Non questo Questa Vabbè ma con uno Come ne fai Eh sì però se il maiale si mette in mezzo Ti c'era così rotta Oh 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 Ma è il maiale Sei diventato all'improvviso Zombie maiale Te pareva Dove sta sto zombie Che lo venga a uccidere con tutte le mie forze Crea 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 Aspetta Ferma Tutti Si Questa è una soluzione di acqua Infini Ragazzi Aspetta Cos'è la click Tutorial Ok Ragazzi ma tu sta facendo un tutorial Nella play anche se la sa usare Perché è abbastanza un abitino Dai però sei un po' un abitino Ok hai ragione Non so tipo come sta No no fai no No Che cosa No devi cliccare Giù No 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 Questo Dove lo sta Chiedendo Beh si Comunque ragazzi Continuiamo No non si conclude Qual episodio Vedete Vediamo Da 15 minuti Ragazzi Creiamo un pittone E concludiamo questo video qua Farò delle cose AFK Non AFK Come fai a fare le cose AFK Farò delle cose off camera Nel frattempo Ho bruciato pure il divano Ah Ok No E' di nuovo le paludi No Matti C'è troppa fortuna C'è troppa fortuna Di trovare il mio mirario Come faccio io C'è i pistoni C'è come mi capo Ma io sto ballando Nel frattempo Eppure sei Sei slime ball Vabbè ma sto ballando Lo so voglio rifare una danza di forza Giustizia arancione P P P P P C'è ma Giulia con che fortuna Ragazzi E allora Per questo video Possiamo concludere qui Questa è la zona E quindi per questo video Possiamo concludere qui Ricordate di iscrivervi al canale E di attivare la campanellina E per questo video Possiamo concludere qui Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi